La mattina bevo molta acqua. Gli italiani sono molto eleganti. Gli olandesi sono molto allegri. Vedo molte donne vestite bene. Conosco molte lingue straniere. Molti autobus aspettano in fila. Le regioni italiane sono molte. Questi sono molto interessanti. Luca e Claudia sono molto belli. I nipoti stanno molto bene. Sto molto bene e sono felice. Molti amici sono arrivati adesso. Cerco di imparare molte lingue. Molti studenti sono in ritardo. Se me lo chiedesse glielo direi subito. Hai guanti stretti, non puoi toglierseli. Dicendotelo mi sento già meglio. I libri me li darai domattina a scuola. Tranquillo, non devi preoccupartene. Di biscotti non ce ne sono più. Fateci trovare la macchina pulita. Glielo ho detto ieri sera dopo cena. Non riesco a farglielo ammettere. Il progetto glielo porto domattina. Se ti piacciono te ne compro due. Il ladro non è riuscito a rubarmelo. Diglielo appena vi vedete domani. Se hai l'acqua gliene dai un po'? Questo è un buon lavoro. Nel film ci sono buoni attori. Non vado mai da quelle parti. Ci piacciono quei gatti. vogliamo una bella cena. Il tuo è un buon gelato. Questi sono bei giorni. Quei fiori non mi piacciono. Lina è una buona amica. Questi sono bei paesaggi. Oggi parlo con quegli studenti. Ti porto un bel regalo. Sabrina è una bella donna. Questa macchina è bella. Questo è un bel giardino. La tua casa ha bei pavimenti. Desidero un buono chalet. Quei profumi non sono buoni. Ho letto questi giornali e quelli. Ho mangiato un buon dolce. Ho visto dei belli uomini. Qual è la frutta che più ti piace con il gelato? Non ci sono andati. L'altra volta pioveva. Vado spesso in moto da Pisa fino a Roma. Va, ma non ci mettere troppo tempo. C'è gente che inventa scuse ogni giorno. Da allora ho iniziato a mangiare più sano. D'ora in poi non ti racconterò più nulla. Sul lago c'è un cigno. Maria lo osserva. L'odore di quelle spezie mi piace molto. Maria ha raccontato tutto alle amiche. Ci hanno detto che è stato un incubo. La tua è una bella idea, ma solo in teoria. Avete concluso un buon affare stamattina. Ci ho messo tanto tempo per capire. I nostri amici ci aiutano davvero tanto. Qualcun altro ha visto quello che è successo? Questa amica ti è sempre stata molto vicina. Non ho nient'altro da aggiungere ancora. Io so qual è il vestito che ti piace di più. L'anno scorso non sei stato in vacanza. Viaggio spesso in auto sull'autostrada. Fra due anni finirò la scuola. Da quanto tempo conosci Marco? L'ho comprata nuova un anno fa. L'estate inizia fra un mese. Non vedo Sara da due giorni. Ci sono già stato sei mesi fa. Un'ora fa stavo lavorando. Poco fa ho incontrato Roberto. Luca guida l'auto da tre anni. Sarò a Roma fra dieci giorni. Due giorni fa è venuto Paolo. Da quanto studi l'italiano? Fra un mese parto per la Spagna. I bambini dormono da poco. Fra un anno esce il nuovo film. Bisogna che io prenda un giorno di ferie. mi piacerebbe che tu venissi da me stasera. Voglio che lui venga domani mattina alle dieci. Speravamo che voi arrivaste un po' più presto. Pensavano che noi fossimo già arrivati a casa. facciamolo così che la mamma sia contenta. Anche se lui avesse una scusa non lo perdonerei. Credevamo che il biglietto costasse molto meno. serve che io cambi le gomme dell'auto. Ci piacerebbe che voi faceste un piccolo viaggio. Vogliamo che loro ci dicano cosa è successo. Forse è meglio che tu vada a chiedere. Non sapevamo se le mele fossero già finite. Ti ho dato un libro così che tu lo legga. Poco fa ho incontrato Roberto. Luca guida l'auto da tre anni. Sarò a Roma fra dieci giorni. Due giorni fa è venuto Paolo. Da quanto studi l'italiano? Fra un mese parto per la Spagna. I bambini dormono da poco. Fra due anni finirò la scuola. Da quanto tempo conosci Marco? L'ho comprata nuova un anno fa. L'estate inizia fra un mese. Non vedo Sara da due giorni. Ci sono già stato sei mesi fa. Un'ora fa stavo lavorando. Domani ti aiuto a studiare. Chi mi aiuta con le valigie? Vi chiedo di fare più piano. Ti ringrazio per il regalo. Il nonno ti vuole al telefono. Domani mi accompagnate? Luca vi aspetta in macchina. Chi ci vuole accompagnare? Come ti sembra il vestito? Oggi ti vedo un po' stanco. Vi siete dimenticati qualcosa? Ci piace molto viaggiare. Tu mi hai chiesto una mano. È quello che ti sto dicendo. Maria leggeva un libro. Io andavo al cinema. Loro dormivano male. Noi finivamo la visita. Lui parlava di ecologia. Maria. Cosa faceva? Dove andavi? Dove andavate? finivate il lavoro per oggi. Io camminavo. Noi pensavamo. Io mettevo. Marco. Loro finivano. Voi credevate. Marco abitava a Napoli. Tu non parlavi con Luca. Tu avevi un'auto blu. Come dormivano? Quando finivamo? Di cosa parlava? Tu mettevi via i soldi. Suono. Suonare. Grido. Grido. Glido. Bacio. Glido. Glido. Badr. Odr. 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 Guido. 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 Buona. Cuocina. Cuocinare. Amore, amare, pensiero, pensare, studio, studiare, invito, invitare, viaggio, viaggiare, sbaglio, sbagliare, incontro, incontrare.